La paura di essere sottoposti a domande di cui non conosciamo la risposta, oppure di dire cose di cui potremo pentirci poi durante la conversazione. Controllare le proprie emozioni e sfruttare la nebbia psicologica. Le domande che spesso vengono poste da un manipolatore sono vaghe, non hanno una vera e propria risposta, sono deboli, hanno molte eventualità e spesso non chiare. Cosa fai se succede così? Cosa non si deve fare? Cosa può succedere se sposi lui o un altro? Il fatto che non ci sia una vera risposta chiara e ufficiale è la carta giocata dal manipolatore, in modo poi che il risultato sia quasi sempre Voi non sapete. Quello che sa è lui o lei. Alcuni esempi di frasi emozionalmente forti. Una madre che dice a suo figlio Ho sacrificato i migliori anni della mia vita per te. Oppure un innamorato che dice alla sua innamorata Se mi ami farai questo per me. Oppure tu non mi ami allora. O ancora Non puoi rifiutarti di farlo per me. Tutte frasi rivolte al ricatto morale. A non farvi sentire all'altezza. A farvi sentire in colpa se non fate quello che vi viene chiesto. O comunque frasi tese a mettervi in una posizione scomoda. A destabilizzarvi. A farvi sentire ignoranti. O semplicemente colpevoli. Questa è la prima parte della tecnica del manipolatore. La destabilizzazione. Adesso andremo a vedere insieme attraverso alcuni esempi Come contrastare la manipolazione Attraverso alcune risposte tipo Anche contro ad esempio una persona aggressiva. Tutte queste tipologie di domande Un po' scomode che abbiamo elencato all'inizio Vogliono portarvi su un terreno da gioco Chiamiamolo così per comodità Scivoloso Dove è molto facile cadere Il primo vostro obiettivo, come già visto È quello di non rispondere alle domande Che voi ritenete scomode A quelle che vi creano imbarazzo Non rispondere Non dovete farvi rapire emozionalmente Da questi sentimenti tossici Come la paura e i sensi di colpa Dovete usare una contro-manipolazione Cioè dovete usare le sue stesse armi Ma contro di lui Per manipolare infatti Bisogna Nella quasi totalità delle volte Mentire O comunque Non esporre la verità Non esporre i propri sentimenti Le proprie emozioni appunto E quindi si cerca di mettere l'altra persona Con le spalle al muro Vediamo come possiamo uscirne Qui entra in gioco la nebbia psicologica Che è uno stato emozionale Che subentra in alcuni casi per autodifesa In altri casi per proprie debolezze personali Ma che noi possiamo chiamare in causa Proprio per difenderci Nelle proprie risposte infatti Se non siamo in grado di non rispondere O se non vogliamo coscienziosamente non rispondere Abbiamo la possibilità di restare fumosi Di fuggire o rifuggire Di cercare di bypassare l'ostacolo Di girare attorno alla questione Compiendo vere e proprie giravolte Anche la lingua italiana favorisce molto queste situazioni Questa non chiarezza Usando molti condizionali Usando anche dei sottintesi Basta non dire mai le cose chiare e esplicite Così a volte avremo quel genere di risposta Da parte dei manipolatori Che suona tipo Io questa cosa non l'ho mai detta Infatti è perché lui stesso Usa sottintesi Da da intendere Qui l'idea di base è proprio quella di essere Altrettanto indiretti Altrettanto vaghi Venendo proprio alla nebbia psicologica È una tecnica che va usata Solo in casi estremi E solo in caso di difesa personale Infatti questo video lo faccio Non per manipolare gli altri Ma per non essere manipolati Per questo non voglio incoraggiarvi A usare ed abusare di queste metodologie Ma semplicemente A usarle per noi stessi Mai prendere posizione E mai dire il vostro punto di vista Non dire mai nulla Che possa incrementare la discussione Alzare i toni O incoraggiare lo scambio di opinioni Questa è una tecnica molto valida Se vi trovate davanti a una persona aggressiva Non dategli corda Lo stato d'animo È di creare una nebbia Attorno a voi Dove non sia chiaro l'uscita E dove non sia chiaro dove vi trovate Quale sia il terreno da gioco Che tutte le cose che vi sono attorno Non abbiano un profilo ben definito Non ci devono essere punti In cui il manipolatore può aggrapparsi Questo perché lui cercherà disperatamente Un punto ad appoggio Una vostra debolezza Ciò questa tecnica qui Ha anche il solo fine di prendere tempo Di potervi far ragionare Darvi tempo per ragionare E per mettere insieme Delle risposte più concrete E più incisive Ho sacrificato i migliori anni Della mia vita per te Una risposta può essere Bene Se lo dici tu Se mi ami Fallo per me Questo è il tuo punto di vista Oppure È possibile Ho capito È il tuo punto di vista È un modo come un altro Di vedere le cose Ognuno ha i suoi gusti Può essere Bisogna essere vigili A non entrare nel campo da gioco scivoloso Spero di poter essere stato di aiuto A controllare le proprie emozioni In un modo migliore Spero di poter essere Grazie a tutti.